E salve a tutti ragazzi, io sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di SobSobs. Oggi andiamo a vedere un SSTO RCS fatto da Francesco Caorsi, chiamato anche Yukao su YouTube. Ed è il primo SSTO che vedo ad RCS, nel senso che completa l'orbita ad RCS. Allora, abbiamo una capsula, un serbatoio, un generatore termoelettrico e poi serbatoio di RCS, le intake, clicciate come le cliccio io. Sono esattamente... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 intake, quindi 7... Ah... Diviso 5. 2 virgola qualcosa, unità di aria. Vabbè. E poi 3 motori. Oddio, secondo me forse è un po' troppo, ma intanto andiamo a vedere. Così com'è. Intanto l'ho già provato e... 3 motori penso siano... Troppi. Quindi... Ok, è già un po' traballante. Sono... No. Non c'è un tasto per spegnere il motore ad RCS. Quindi, dov'è? More power. Manca anche di un SES, quindi... No, 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 no. Nel senso, per andare in orbita vai in orbita, ma l'ombra felbita c'è un po' da lavorarci, quindi... Andiamo a... Andiamo a... Ristamare un po' la forma. Ok. Qua... Dei tre motori se ne può mettere tranquillamente uno. Non mettiamo... Fammelo mettere, ok. Giustamente mi deve andar via la voce. Se a carpa la smette di continuare a frizzarsi ogni due secondi. Anche perché mi è arrivata la roma, me l'ho già installata, devo... Adesso 8 giga, devo cambiare il disco fisso. Infatti, sta partendo il disco fisso, ma va bene. No. Facciamo magari così. Mettiamo anche dei cavi per tenere il tutto insieme. Vediamo via il vertical snap. Bisogna sempre cercare di conciliare estetica e funzionalità, anche se spesso non è possibile. Vabbè, li nascondiamo sotto, tanto nessuno guarderà. Mettiamo dei cavi... Le... Altri cavi qui... E altri non c'è posto, quindi qui. Magari mettiamo un SIS. E un altro generatore termo elettrico. Visto che per ogni SIS due generatori termetici sono più che sufficienti. Andiamo a sistemare gli action groups. Mettiamo 1, toggle engine. E due... E due... Toggle... 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 E toggle... Poi... Dobbiamo diminuire la portanza dietro o aumentarla davanti, quindi... Ah, ok, ci sono dei cavi glitchati qua. Ne avevo visti. Andiamo a... Ah. Qua la situazione è un po'... No, 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 ok. Ok. E la andiamo a... Bloccare. Ok, già meglio. Ok. Una cosa, mi raccomando, queste winglet a non metterle al contrario, perché la loro forma è proprio fatta così. Se le mettete al contrario, vireranno appunto al contrario e quindi... Voi virate a destra, loro cercano di virare a sinistra, cioè cercano di farvi virare a destra, poi in realtà vi fanno virare a sinistra e voi virate ancora più a destra, però virate ancora più a sinistra. Quindi, yuppi. Intanto bisogna sistemare anche le landing wheels, cioè le landing wheels, perché sono troppo indietro. Dai! Ok. Vorrei decentemente manovrare, anche perché un SSTO non deve essere manovrabile, deve essere... ...stabile... ...e anzi, poco manovrabile, ecco. Dovete fare aggiustamenti precisi, eccetera. Intanto lì c'è Jeb che è fermo da non so quante puntate lì. E forse potresti anche, magari... ...non so, aggiungere delle tonica di RCS laterali, quelle radiali, per aumentare la capacità e forse, dico forse, arrivare anche su un Minmus. Meglio Minmus, perché si consuma di meno da terrore. Ed è sempre andare via la voce. Dai, per bilanciare... ...di mi va via la voce. Per bilanciare si possono anche aggiungere delle winglets su queste due ali qua. Cioè, perché dico degli alettoni? È comunque molto pesante. Di per sé, visto che RCS non è leggero. Ok. Andiamo a sistemare le ruote. Cioè, perché nel gioco normale non si blocca, mentre nel V e B si blocca ogni 10 secondi. Cioè, neanche 10 secondi. E non succede solo a me. Visto che succede anche ad Andrea. Ok, salvi... ...e si blocca. Così a caso si deve bloccare. Ok. Mi sono appena conto che c'è dell'oxidizer. Quindi è appeso in più. Kerbal, basta bloccarti. Andiamo via l'oxidizer. Ok. E adesso sarà anche un pochino più maloprabile. Oppure potresti mettere un rapier e quindi avere sia il sistema di profusione a fuel che ad RCS. Anche se il rapier è meno potente di un turbojet, quindi potresti avere difficoltà ad entrare in orbita. Poi magari qua ci starebbe bene, non so, una... Qualcosa di... Wow! Calma. Qualcosa di estetico, tipo delle coperture dietro le winglet. Siamo a quasi 15 chilometri. Siamo a meno della metà dell'aria. Cerchiamo di prendere velocità. Ok. E comunque si potrebbe, ad esempio, sacrificare un po' di spazio qua. Magari non so, quando uscirà la Space Plane Plus. Si potrebbe utilizzare la fusoliere della Space Plane Plus. Cioè quando uscirà la 025 si intende. E quindi andare a mettere una Cargo Bay e l'RCS glitcharlo da qualche parte. Stiamo accelerando. 20 metri al secondo di accelerazione, qualcosa del genere. 30. Continuiamo a salire. Aria ne abbiamo tonnellate. Ancora nessun effetto di rientro. Ok, il motore sta iniziando a calare di potenza. Gli solleviamo un po' il muso. Gli solleviamo un po' il muso. Quanto brutto è vedere il mare tutto uguale. Dovrebbero migliorare le texture in generale. Come Ghillie, ricordate Ghillie. Sarà tipo la stessa texture ogni 3 metri. 010 di aria. Viva la freewheel del mouse. Sì, perché praticamente ho comprato RAM nuova, harddisk nuovo che devo ancora montare perché devo ristallare Windows e tutto. Quindi ci vorrà un po' di tempo. E poi anche un mouse no, perché quello vecchio si è rotto. Ho un Logitech G700S. Perché fosse interessato. Riusciamo ad avere una poopsis solo col motore jet? Sì, è vero. E dai, 60 Kilo Newton, dai. Spegniamo ad 80. Ok, sì, forse è troppo. Lasciamo che l'attrito la abbassi. Spegniamo al motore jet. Intanto passano aerei militari. Yuppie. Perché tipo questo fine settimana da me c'è un air show. Ok. No. Fermo, fermo, fermo. Il terreno che si gliccia a caso. Yuppie. Ma comunque è sempre utile avere un Kerbal come riferimento a Chiesci. o nebri di qualcosa schiantato. Va più che bene. Due. Prograde. È bello che ho l'acceleratore sul mouse. Shift e Control. Non ha senso, ma va bene. E perché i motori da RCS consumano, eh? Cioè. Sono sì efficienti, però. Quindi sono più efficienti dei loro cugini a fuel nello spazio. Però nell'atmosfera sono meglio quelli a fuel. Ok. Ok. Siamo in orbito. Calma. Nesce Bob. Giusto, posso controllare l'EVA con il mouse. Scuso. Yuppie. Quindi forse è meglio se metto F5, F9 al posto di Shift e Control. Andiamo a Dr. Horror. Quindi febbo. Parfznith. E poi... Al ciao. E' meglio che cosa Aspetta... Ho... 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 ... forse un po' troppo corto vabbè, motore chat e praticamente abbiamo abbastanza fuel per atterrare e ridecollare e tornare in orbita magari anche altre due volte quindi è riutilizzabile interessante a presto si, molto corto ok, vabbè, se è stata la roba meglio forse si poteva riutilizzare è l'aerodinamica di Kerbal che caliamo di quote e non possiamo andare più veloce è l'aerodinamica di 150 metri al secondo 120 because physics bob è spaventato voglio più marca sull'anobal e poi volevo anche ringraziare la squadra per aver rilasciato il post della 025 dopo che abbiamo fatto il Kerbal News c'è qualche gomblot in otto dovrebbero anche rimettere come c'era una volta nelle vecchie versioni tipo 1.17, 1.18 che anche se state fermi c'è comunque tipo un fruscio di sottofondo dato dal vento e quando mi muovete aumenta poi l'hanno tolto non si sa il perché possiamo volare molto lentamente no 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 intendevo fare questo mi è mezzo intatto colpatura Bob questo era l'SSTO ad RCS sempre per il download ci vuole il permesso quindi un saluto dal team di Kerbal Italia ad Alberto ciao